bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo allora amo cosa gli stiamo facendo vedere perché siamo qua in questo video perché dopo tanto navigare è arrivata si è persa è colpa mia colpa mia fai vedere il pacco che cosa ma che meravigliosi ma non si rovina se lo giri così è persa ed è finalmente arrivata vogliamo dire prima di aprire che cosa tu apri spiego i ragazzi allora ragazzi ho visto una roba che mi piaceva tantissimo e che volevo mettere sempre in live lì nell'inquadratura della webcam praticamente quella che c'è dentro qua è una lava lamp che ha dei problemi questa è una lava lamp ufficiale dei playstation come ti sembra tu che l'hai vista era l'ultimo esemplare al mondo al mondo e lui la deve mettere qua esposta sì perché è ancora sigillata dagli anni che furono ho capito no se schiacci qua sia la tastiera non schiacciare la tastiera perché non mi arrabbio però se mi muovi non mi sto arrabbiando possiamo ringraziare innanzitutto voglio ringraziare personalmente macchi roll per aver fatto la sbatta di andare a prenderla rimpacchettare la spesa perché il giovane che la vendeva su ebay cosa che non faceva ma ti sembra che uno nel 2045 non spedisce in italia da queste sono le opzioni del venditore ho capito ma che lavoro che ha fatto ma che io non gli avrei fatto di questi piaceri ma scusa ma perché non fatti pagare una tanto cosa è una tanto ma grazie ma chi grazie mille ha fatto veramente un lavoro incredibile sembra che hai sembra che ha impacchettato i gioielli della regina io ho una paura fottuta di vederti con la forbice mi spaventi non penso che vorrà che ci sia una prossima volta allora eccola che siamo in apertura ragazzi siamo l'apertura il mattone è ma il problema che io so dove abito il suo indirizzo quindi vuoi andare a vedere un'altra volta l'inghilterra dai che andiamo e magari lui abita da un'altra parte non abita dove ci siamo andati noi no io ho il suo indirizzo stai sempre attento a non toccarmi la tastiera che se stoppiamo la registrazione perché tu toccaci la tastiera siamo rovinati signori deve essere una roba veramente carina spero davvero che abbia avuto senso acquistarla ci ha messo un mesetto ad arrivare perché è partita dall'inghilterra è rimasta in inghilterra è stata sbagliata mostra mostra show 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 please show prima c'è una altra cosa che da fare dai cos'è un addio ma che cosa ha fatto c'è il ding che è quello che è il fornetto praticamente sotto c'è la lava lamp super malio e poi faccio pro lo attacco questo ok quello ragazzi non posso aprirlo questo lo apriremo oggi pomeriggio in live lo lasciamo lì lo lasciamo lì non lo apriamo anzi sì non lo apriamo fai vedere fai vedere fai vedere fuori perché troppo pesante da ma perché c'è sempre la cavalcata delle valchirie signori si icon flow ma è già stata aperta mi sa si ero commento ah no il tizio l'aveva aperta per controllare che fosse tutto ok dai dai apri 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 la vediamo la vediamo e la accendiamo insieme ragazzi ok o di sviso cos'è qua c'è il contenuto dai ma non ce l'ho l'adattatore per questa cosa ma come la accendo ma c'è una ma chi è che ha questa presa di corrente orco mondo ragazzi wow non rovinare le cose minchia in vetro amo se si spacca non ne troveremo mai più un altro amo non ne troveremo mai più un'altra se si spacca te lo dico se si spacca non troveremo mai più un'altra lampada uguale ma io non ho capito non ho questa presa di corrente è nuovissima ragazzi c'ha un odore di nuovo che non vi sto neanche a dire ma dai ma poi cosa c'è questo che è sicuramente una roba che gli va sopra spacca no eh mi raccomandi c'è questo coso che è un tappo che gli va sopra ok abbiamo la base che diventa caldo quella è un'altra abbiamo le istruzioni wow guarda qua sbronk cazzo è meraviglioso questo coso questo diventa incanto aspetta metterci le mani ora questa è la luce max 240 volt 25 va le istruzioni le istruzioni allo allo ma come la infiliamo ma io ho un mezzo di diaccio l'ho aspetta un attimo no diciamo che siamo sui tu la devi aprire no questo va qua e questo va qua e quello esatto signori signore magnifica ma ci vuole un adattatore raga cioè bella fa paura è la foto della copertina e quindi io faccio cose così bella ha bisogno secondo me sì sì a parte questo che è un po' rovinato di triangolino secondo me ha visto un triangolino dentro rovinato dovrebbe rendere deve essere una figata niente la vedrete accesa in live ragazzi speriamo che questo video gli sia piaciuto iscrivetevi nei commenti se vi è piaciuto come trovate la lavalampa noi vi salutiamo e ci vediamo alla prossima ciao ciao